In una cultura molto particolare come la nostra, che è il finocchio, è molto importante tenere sotto controllo tutti i vari passaggi che si effettuano nella cultura per avere un controllo esatto dei costi. Sono Lorenzo, responsabile dell'azienda agricola Caligari e Babbi, ci troviamo a Sant'Arcangelo di Romagna, provincia di Rimini, produciamo su una superficie di circa 25 ettari ortaggi freschi come finocchio, fagiolino e spinaccio. Prima di installare X-Farm eravamo sempre nell'incertezza rispetto alle condizioni meteo della nostra azienda, mentre adesso con X-Farm e i suoi sensori riusciamo a decidere al meglio gli vari interventi rigui, le varie programmazioni dei trapianti e soprattutto a capire sempre il clima ottimale in cui il prodotto cresce al meglio. Tramite un amico sono venuto a conoscenza di questa piattaforma X-Farm e successivamente dopo un contatto direttamente con l'azienda abbiamo deciso di installare quattro loro dispositivi, una stazione meteo, due sensori di umidità e un sensore di conducibilità del terreno. Il modulo che usiamo di più è il modulo attività che ci permette di pianificare e soprattutto registrare le varie attività che svolgiamo in azienda, soprattutto trattamenti, concimazioni e trapianti. Un'altra funzione molto interessante è il modulo sensori che ci permette di tenere sotto controllo la nostra azienda in tempo reale e tramite uno storico di dati anche di prendere delle decisioni su le varie irrigazioni, trattamenti e concimazioni. Nel futuro ci piacerebbe approfondire la funzione della telemetria dei vari mezzi, soprattutto per quanto riguarda l'irrorazione e la concimazione, per essere sempre certi sui vari lavori che sono stati svolti in azienda e quindi registrarli nel modo più accurato. Consiglierei Xfarm a tutte quelle aziende che stanno avendo un approccio a una gestione più moderna dell'azienda tramite la registrazione delle varie attività. In una cultura come il finocchio è sempre più difficile tenere sotto controllo i vari costi e diventa sempre importante prendere nota dei vari passaggi che si effettuano sulla cultura per avere un rendiconto annuale più preciso.